Operazione della Guardia di Finanza di Pescara, una montagna di rifiuti edili, di lamiere, di avanzi alimentari, bomboli di gas e di ossigeno, estintori, ma anche ciclomotori e veicoli fuori uso, tutto gettato illegalmente su una superficie di 300 metri quadri, già occupata da un opificio. È stato davvero uno scenario allarmante quello che si è presentato davanti agli occhi delle fiamme gialle di Pescara. Sono stati individuati i due proprietari del sito, in evidente stato di incuria e di abbandono. L'area è stata sequestrata e sul posto, grazie ai cani, sono state anche rinvenute delle sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, nascosta da uno dei due responsabili. Naturalmente sono in corso ulteriori accertamenti e approfondimenti sui veicoli rinvenuti e anche sull'eventuale danno all'ambiente cagionato da questa discarica abusiva e dalla prolungata infiltrazione di oli e di percolato nel sottosuolo. L'operazione Trash accende i riflettori su un quadro di illegalità ambientale alimentato da pratiche abusive di smaltimento dei rifiuti. È questo che ha dichiarato il colonnello Antonio Caputo, che è il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara.